Per Nanes, la parriera va... Ermanes, un gol pazzesco! La mette dentro di Natale, Totò di Natale! Il Sperger porta in vantaggio la Lazio! Una buona conclusione degli altri che ha ingannato il sportieri e ha cambiato la traiettoria al pallone. Di Natale, ancora di Natale, di Natale! Pareggia l'Udinese con Totò di Natale! E sono 29 i gol in campionato di Totò di Natale! E Brocchi in zona a tiro, prova a liberarsi! Brocchi, 3-1! Non è stato un tiro fortissimo, però è stato angolato e Romo forse è stato sorpreso in quanto aveva tanti giocatori davanti al Spergero! L'Udinese cerca l'aggancio alla Lazio terza e ci riesce momentaneamente con questa spaccata di Di Natale! Ancora lui a segno! Rivediamo! Morbido, Mauri dentro! Attenzione! Possibilità! E la red! E il fata Gonzales! Gonzales, posto in vantaggio la Lazio! Mauri in profondità per Klose che parte! Klose! Come un treno! Super! Che c'è qua! Il pescatore di gol! È questo! È questo che intendevi! Sì, 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 è un giusto così, bravo! Il pescatore di gol! Miroslav Klose ha un trentunesimo! La doppia per la Lazio! È il suo ottavo gol in stagione! taglio rifer, grazie! Ciao! attenzione! Grazie